Anche quest'anno la festa della musica dei 32 licei musicali e dei 6 licei coreotici della campagna avrà come protagonisti i giovani studenti della nostra regione. Da una provincia all'altra, di città in città, di scuola in scuola, si alterneranno le esibizioni dei solisti, dei gruppi musicali, dei ballerini appartenenti ai licei della campagna nei video realizzati dalle singole scuole. Ogni liceo musicale e coreotico ha registrato un video in un luogo di interesse artistico della città di appartenenza della propria scuola. L'iniziativa vuole valorizzare non solo le giovani eccellenze musicali ma anche le innumerevoli bellezze artistiche e naturali della campagna. Il liceo musicale Alfonso Gatto parteciperà all'evento con un video che avrà da cornice il castello angioino-aragonese di Agropoli in cui l'esamble, fiati diretto dal professor Parides e Meraro, esegue un estratto della colonna sonora del film Jurassic Park di John Williams. L'appuntamento dunque è questo pomeriggio lunedì 21 giugno dalle 15 alle ore 19 per seguire tutti i video delle esibizioni registrate dal vivo oltre al dibattito con gli illustri ospiti presenti. Per assistere all'evento è possibile collegarsi alla pagina Facebook Polo dei licei musicali e coreotici della Campania.